Qual è la partnership per il premio? Che è stato fino adesso un po' refrattario all'innovazione, quindi stiamo cercando di mettere dei semini, cercare di innaffiare un po' il terreno e cercare di far nascere qualche idea. Poi queste idee probabilmente germoglieranno e avranno la possibilità di incontrare l'università e poi anche Sellalab con i loro percorsi di Open Innovation.